Deputato Guido Guidesi, il vicepresidente della Commissione Europea OlliREN, che cosa ha detto in commissione? Beh, è venuto in commissione a fare un'audizione, nulla di nuovo, tutto assolutamente scontato, alla fine non c'è passo di aver visto niente di nuovo da parte del commissario, ha denunciato un po' la preoccupazione da parte dell'Unione Europea riguardo dell'abolizione dell'IMU, per cui con la preoccupazione che non si rispetti il rapporto deficit-pil del 3% quest'anno, e dall'altra parte ha fatto una considerazione sul fatto che la crisi non sia finita, insomma mi sembrano assolutamente un'audizione scontata. Condivide le sue affermazioni? Condivido, mi sembrano cose abbastanza scontate, determinate addirittura dalla relazione che il Governo ha presentato al Parlamento, smentendosi da solo, io credo che però non ci sia bene la percezione di quanto invece sia grave la crisi dal punto di vista dell'economia reale. Il commissario ha toccato un punto che riguarda il credito alle aziende, il credito alle giovani coppie, per quanto riguarda l'abitazione principale, io credo che questo sia uno dei punti che questo Governo non ha ancora affrontato, al rapporto con le banche, al rapporto diretto con gli istituti di credito che stanno aggravando la situazione dell'economia reale. E per quanto riguarda l'Imu? Per quanto riguarda l'Imu noi abbiamo la nostra posizione che è diversa dagli altri, perché noi pensiamo che l'abolizione dell'Imu sulla prima casa sia giusta, non solo per quanto concerne il fatto che l'abitazione principale sia un diritto, dal nostro punto di vista, acquisito, ma dall'altra parte anche perché la tassazione si basava sulla vendita catastale. Tutti sappiamo che all'interno del territorio ci sono catasti che funzionano e catasti che non funzionano. Quella era una tassa che pagava solo il Nord.